Per quale maledettissimo motivo devi andare ad abbordare le donne in mezzo alla strada? Mi spieghi come fai ad andare ad approcciare delle donne che già non si fidano di te, che già non ti conoscono, andarle a fermare in mezzo alla strada e sperare di riuscire a conquistarle in qualche modo? Secondo te, una donna di valore ti darà il numero di telefono una volta che la fermi in mezzo alla strada? La risposta la sai già.